In collegamento da Roma la nostra inviata Gardegna Trezzini. Buongiorno Gardegna. Buongiorno Claudio. L'Italia centrale è stata colpita da un violento sisma, sette anni da quello pesantissimo che aveva devastato la città di L'Aquila. Qual è stata finora la risposta dei soccorsi? Le precedenti esperienze hanno contribuito a perfezionare la reazione delle autorità? La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, vista anche l'importanza e la potenza del terremoto di questa notte. Però chiaramente ci sono stati dei ritardi dovuti essenzialmente alla difficoltà per raggiungere i luoghi più colpiti del terremoto. Stiamo parlando di paesi in zone montagnose. Le strade di accesso questa notte erano danneggiate, sono ancora danneggiate chiaramente. Stiamo parlando appunto di paesi in alta montagna e bisogna anche tener conto che subito dopo il terremoto si è verificato un blackout che ha piombato le intere regioni colpite nell'oscurità. Quindi per esempio uno dei paesi maggiormente danneggiati, accumuli, ha visto arrivare i soccorsi due ore dopo la prima scossa. Ecco, come hai detto questo sisma ha colpito in particolar modo piccoli centri. Quindi quali considerazioni possiamo fare sul tipo di emergenza? Quali le difficoltà per i soccorritori su questo territorio? Allora bisogna dire prima di tutto che gli edifici più colpiti si trovano nei centri storici. Stiamo parlando di centri storici molto antichi, con case costruite in pietra e in muratura molto fragili. Alcune si sono completamente sgretolate, si sono accartocciate su se stesse. Quindi stiamo parlando di edifici costruiti chiaramente in altre epoche e non secondo le norme antisismiche. Quindi stiamo parlando di persone ancora sotto cumuli di macerie. La difficoltà in questi paesi, paesini nella maggior parte dei casi, è anche una questione di spazi. Come organizzare i soccorsi? Dove collocare gli sfollati? Per esempio a Matrice, in provincia di Rieti, un'altra dei paesi più colpiti, ci sono più o meno 2500 persone da dover collocare. Per concludere, in questi casi la macchina della solidarietà si mette in moto. C'è stata partecipazione da parte di cittadini volontari per portare aiuto, donare il sangue? Chiaramente nelle zone maggiormente colpite stanno tutti scavando, con le mani e con le macchine come si può. Però è la protezione civile stessa che ha invitato i cittadini a non intralciare i soccorsi. Come dicevamo prima, stiamo parlando di zone morfologicamente e geograficamente difficili. Quindi un eventuale afflusso di troppi volontari potrebbe rallentare i soccorsi. La protezione civile ha anche invitato gli abitanti delle regioni, per esempio, a disconnettersi dal wifi, per esempio, per non accumulare e appesantire la rete e facilitare le comunicazioni. Gli ospedali della zona, in particolare quelli di Rieti, hanno però rivolto un appello ai cittadini per donare il sangue e stanno affluendo aiuti da ogni parte d'Italia. Bene, grazie Gardenia Trezzini, inviata di Euronews a Roma. Grazie a voi e buon lavoro.